Axe è un amico e me l'ha dimostrato un sacco di volte. Venendo ai concerti per i miei bambini, per Rainbow, partecipando, mi ha fatto il piacere, l'onore di partecipare a Come Novi, insieme agli Estrema, altri fratelli, grandissima band, e l'ha vinto. Perciò non voglio stare lì a giudicare, perché penso che ognuno possa fare quello che voglio, però sinceramente, sinceramente, avrei voluto, avrei voluto più averlo con me, dalla mia parte, a combattere veramente, ma ragazzi, non gliel'hai fatto un cazzo a nessuno proprio, e questo è il problema.